Ho chiesto di ricordare Nilde Jotti e vorrei ricordarla non per le cose di cui ho sentito dire, ma per un ricordo personale. Io ero un giovane deputato che faceva centenia di emendamenti nelle leggi finanziarie di una volta e in quelle noti in cui ci si fermava a votare qui in Aula quelle centenia di emendamenti ricordo una sera arrivare Nilde Jotti, salire con passo incerto e malfermo quella scala, andare a sedersi al suo posto e stare tutta la notte a votare gli emendamenti che l'opposizione aveva presentato. In quel gesto umile c'era tutta la dignità che Nilde Jotti, presidente della Camera per più di dieci anni, attribuiva alla Camera dei Deputati e alla istituzione parlamentare. In quel gesto umile c'era una politica che purtroppo oggi io fatico in qualche modo a ritrovare. Ecco, il mio ricordo personale di Nilde Jotti è questo, una grande dignità, un grande rispetto per le istituzioni, il sentire il Parlamento e l'espressione del popolo, ecco, tutto questo condensato in una grande azione, in un'azione umile, in un esempio. Ricordo che io conservo di Nilde Jotti questo esempio della politica e soltanto con l'esempio in qualche modo si può insegnare a chi viene dopo a continuare a operare per il bene comune. Grazie.